Magari oggi mi vuoi lasciare? E tu dove fai? Come sono io le pizzerine le pizzerine? Allora ragazzi in diretta dalla triste grigia oggi è quando la temperatura va bene non possiamo lamentarci però in diretta sempre da questa trigia crista e crista triste e grigia Parigi eeeh se venite in macchia marrone a casa muovere che è la sua zocca eeeh allora oggi c'è anche la festa dell'indipendent day quindi una festa americana che man mano poi in tutto il mondo adesso a San Tropez oggi chi ha una spiaggia a San Tropez dove sta Tom? Tom allora eeeh Ababo vieni qua Trunz ah ha detto vieni qui guardate non ci vede più Tom penso quasi eeeh quasi completamente la vista guardate non vede più niente guardate Tom Ababo vieni Tom 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 eccomi qui eeeh e tutti questi ragazzini ricchi e drogati no? con i loro genitori mediattati che gli lasciano la Ferrari e compagno oggi vanno nelle spiagge e questa è una cosa documentata direttamente da me dove bevono delle coppe grandi come delle enormi insalatiere quelle coppe per fare il ponch trapiene di champagne e vino rosé dovete pensare che ogni ragazzino di quello è in grado di fare uscire più di 150 mila euro ognuno di loro più di 150 mila euro nell'arco della giornata perchè poi le bottiglie di champagne là a San Tropez sulla spiaggia una molte maschandola fanno pure 1000 euro quindi oggi indipendente dei è bella tosta che c'è una casa a San Tropez Siente ma tu mi vuoi lasciare oggi? che stai triste triste moscia moscia babbo guarda invece come stanno il grillo perchè quello mangia poco invece tu sei una postellina ehi non ti mangia le fiorali quale sono le nozze? mmmm ok allora ragazzi dalla festa dell'indipendence the day io vi lascio a tutti oggi come vi ho detto la temperatura va abbastanza bene ieri abbiamo perso ieri abbiamo perso l'Italia però sono fiero perchè abbiamo combattuto fino alla fine è stato solo il fatto che mi sono incazzato di quando fanno quelle corsettine a caprettine là che solo queste cose le può fare solo un professionista come Maradona o come Pelè o come che non ci sono più che non stanno più nel caso questi giovanotti nuovi forse vogliono essere ehm visti così per essere messi sopra al playstation che hanno la capacità di fare questo passettino a caprettino e infatti due che hanno fatto i passettini a caprettino due hanno sbagliato voilà e quindi è stata quella la fregatura Tom 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 Vieni Vieni ehm voilà e niente io vi lascio a tutti ci sta pure Jeff là in mezzo che logicamente noi poi abbiamo una poca possibilità di riposare la gente che lavora a casa che ha sopportato eh caga babba caga caga e pisce pisce e caga eh ma mi vuoi lasciare oggi c'è ancora un rumen che sta stonza bene babba ma che c'è mon amore ma dove sta qui uè non ti arretto a sonico chi lo ti porta un coppa ma la strada capito babba tu tu ah lui deve sentire la mia voce per vederlo sto qua babba in realtà noi eri troppo lontani e niente purtroppo il 92% ha perso la vista però non si poteva fare niente si doveva fare l'operazione però ragazzi costava più di 150 milaio personalmente non so neanche se me la farei per me quindi non è che per il cane farei di tutto per il cane però 150 milaio siccome casa un mariola allora purtroppo così però state ben sicuro sta cagando caca babba caca e pisce che sta la betta fresca qua fatta pure il concime state attenzione zoccole e niente e niente io vi saluto a tutti dalla festa dell'independent dei di 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 Parigi e niente andate a San Ropè prendete il sole noi dobbiamo aspettare giusto un altro pochettino abbiamo le nostre cose da fare e niente ciao ciao a tutti questo è Parigi i colori di Parigi il grigio il grigio è il grigio che sei che sei qui ma mi avevo lasciato oggi ma che c'è babbo è bello che non mi fai neanche capire vieni babbo vieni oh questo non mi piace oggi la città non è stata cittata boh però non ma non bene quello che ci fa non è di essere che valore no 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 Tom! 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 Viè! 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 Non mi puoi non accassare un altro, eh! Fa morire la vecchia ma non mori tu! Ciao ciao a tutti dall'independent day di Parigi! Parigi!